Volevo condividere con voi una cosa che mi è appena successa. Sono completamente senza voce, scusatemi. Sto vendendo il mio divano poltrone soffà. L'ho messo in vendita con le fotografie e le misure sui vari mercatini dell'usato, soprattutto su Facebook. Nel giro di sei ore mi è arrivata la prima richiesta. E in questo momento, mentre sto registrando questo video, mi è arrivata un'altra richiesta, con la stessa modalità. Mi hanno chiesto se il divano era ancora disponibile. Ho detto sì, il divano è ancora disponibile. Allora la signora in questione mi ha risposto manderò un corriere FedEx con i suoi contanti e lei darà la sua merce che poi loro mi spediranno. Mentre mi confrontavo con il mio compagno su questa strana richiesta, me ne arriva un'altra identica. Ma identica! Da fare una ricerca e scopro che ci sono queste persone che truffano e proprio due secondi fa mi è arrivata un'altra richiesta. Loro cosa fanno? Chiedono se la merce è ancora disponibile. Dicono che manderanno i soldi in contanti con un corriere che poi prenderà la merce, arriverà un'email e richiederanno una caparra di 150 euro di cauzione per ricevere i soldi. Allora non so chi è che possa cascare in queste cose però siccome mi sta succedendo state molto attenti perché volevo avvisarvi che è pieno di ladri ovviamente dappertutto, per qualsiasi cosa. Ci provano sempre, state attenti.